Risparmiare in euro o in valuta fiat è sbagliato. In questo video voglio spiegarti perché dovresti seriamente valutare l'idea di risparmiare in altro modo. In valuta buona, in valuta forte, in hard money, magari in oro fisico o magari in bitcoin. Personalmente è dal 2017 che risparmio in bitcoin. Non voglio fare un video motivazionale ma questa mia scelta mi ha cambiato veramente la vita. So bene che verrò criticato in questo video ma ascolta questo video dall'inizio fino alla fine prima di trarre conclusioni affrettate. Ciao, sono Filippo Angeloni, consulente finanziario indipendente ed imprenditore. Aiuto le persone ad investire nei mercati finanziari o in autonomia tramite la formazione o tramite consulenza, quindi tramite consulenza finanziaria indipendente. Allora, partiamo da questo concetto. Il risparmio di per sé non è sbagliato. Il problema è un eccesso di risparmio e un altro problema è lo strumento utilizzato per risparmiare, quindi gli euro nel nostro caso, una valuta fiatta. Il risparmio esiste anche in altre specie della natura. Il fatto di differire il consumo nel tempo esiste anche negli animali, ad esempio. È vero, gli animali non risparmiano soldi, risparmiano però cibo. Uno scogliattolo, ad esempio, va ad accumulare noci e semi, li nasconde in vari nascondigli e poi li va a riprendere l'inverno, quando è più difficile trovare cibo, quando il cibo scarseggia. Il risparmio per noi esseri umani serve a diversi scopi essenziali. Fornisce un cuscinetto finanziario in caso di emergenze o spese impreviste, riducendo la necessità di indebitarsi. Consente di accumulare fondi per obiettivi futuri, come l'acquisto magari di una casa, l'istruzione o la pensione. Può aiutare anche a ridurre lo stress finanziario, quindi aiuta a ridurre lo stress e l'ansia legati alle incertezze finanziarie. Il risparmio può essere anche investito per generare rendimenti, contribuendo alla crescita del patrimonio nel tempo. Fornisce i mezzi per vivere in modo autosufficiente e ridurre la dipendenza da debiti o aiuti esterni. Come detto, il risparmio è qualcosa di essenziale, quindi il risparmio di per sé non è un problema. I problemi quali sono? Sono due. Sono un risparmio eccessivo e sono lo strumento, quindi l'asset class, utilizzata per risparmiare. Ossia la liquidità, ma la liquidità sotto forma di valuta fiat. Gli italiani sono bravi, sono molto molto bravi a risparmiare. Non sono così tanto bravi invece ad investire, però a risparmiare sono bravissimi. Siamo tra i migliori al mondo a risparmiare. Gli italiani risparmiano anche troppo. Nel 2023 vi erano 2000 miliardi di euro fermi nei conti correnti. Fermi a non far nulla. Quindi risparmiamo troppo in Italia. Paradossalmente c'è un eccesso di risparmio. L'altro problema, come ho detto, è lo strumento proprio utilizzato per risparmiare. Ossia gli euro nel nostro caso. Gli euro sono una valuta fiat. Va fatta attenzione, in questo video dico solo questo, va fatta attenzione a risparmiare in euro. E va fatta attenzione, in particolare, a risparmiare troppo in euro. Perché? La valuta fiat è soggetta all'inflazione, che ne riduce il potere d'acquisto nel tempo. Se il tasso di inflazione è superiore al tasso di interesse guadagnato sul risparmio, il valore reale dei tuoi risparmi diminuirà nel tempo. E questa è una costante. Nel tempo tante valute fiat muoiono e tante perdono tanto valore in potere di acquisto. La valuta fiat è anche controllata da entità governative e banche centrali. Questo controllo può portare a decisioni politiche che influenzano il valore della valuta, come la stampa di denaro, che può causare inflazione. Le crisi economiche o le guerre possono erodere il valore della valuta fiat. In caso di gravi crisi finanziarie o guerre, il valore della valuta può crollare rapidamente. La valuta fiat, a differenza di quello che si può pensare, non è supportata da beni fisici come l'oro o l'argento, il che significa che il suo valore è basato sulla fiducia nel governo che la emette. Questa mancanza di copertura o collateralizzazione può renderla più vulnerabile a shock economici. In molti paesi i tassi di interesse sui conti di risparmio sono molto bassi, spesso al di sotto del tasso di inflazione, rendendo difficile guadagnare significativamente attraverso il risparmio. Esistono diverse alternative di investimento che possono offrire rendimenti più elevati rispetto al risparmio in valuta fiat, come azioni, obbligazioni o immobili. Ovviamente queste opzioni comportano livelli di rischio più elevati, in particolare nel breve periodo. Ora, un conto è far girare i soldi in risparmio. Ne tieni veramente pochi in euro o comunque ne tieni il giusto in euro, quindi fai confluire magari in entrata stipendi, compensi, quello che sia, in un conto che chiamiamo risparmio, e paghi con questo conto. Deve essere un flusso, un flusso in entrata e un flusso in uscita. Ci deve essere un altro turnover. Un conto è fare così e quindi non ne lasci troppi fermi gli euro a far nulla nei conti correnti. Un altro conto è ammucchiarli in euro come fanno gli italiani. Non ha senso, non ha veramente senso. Se fai così, lasciamo perdere per un attimo, anzi, lasciamo perdere totalmente il controllo governativo sugli euro. Anche solo, se teniamo presente l'inflazione, prendi una mazzata nel tempo. Non è una buona idea risparmiare così in euro, fidati, non è una buona idea. Basterebbe risparmiare con buonsenso, pagare con la valuta cattiva, la valuta debole, quindi la valuta fiat, una valuta che tende a svalutarsi nel corso del tempo, e risparmiare in valuta forte, in valuta buona, in hard money, quella tipologia di valuta che tende invece ad apprezzarsi nel corso del tempo. Quali possono essere le valute forti, le valute buone? Beh, possono essere senza dubbio l'oro fisico e bitcoin. C'è anche chi in realtà intende come valuta forte alcune tipologie di criptovalute, molto simili a bitcoin per struttura tecnica e funzionamento. C'è anche chi magari porta all'estremo questo concetto e tiene veramente pochissimo in euro nel conto corrente, magari anche sotto 100 euro o sotto 1000 euro, e tutto il resto lo mette in bitcoin, in criptovalute o in oro fisico. Può essere difficile all'inizio risparmiare così, con una valuta forte, come l'oro e bitcoin, ma ti assicuro che nel corso del tempo diventa sempre più facile. Man mano che passa il tempo diventa sempre più facile fare questa scelta e portarla avanti. Per farti capire questo concetto del risparmio e anche perché ha senso, a mio avviso, andiamo a vedere le differenze tra bitcoin, oro e valute fiat. Probabilmente ti metterò diverse infografiche, ma saranno simili. Andiamo a vedere le caratteristiche che hanno questi strumenti, ok? Così vediamo anche quale può essere il migliore per effettuare il risparmio, quindi per andare a risparmiare. Per quanto riguarda la scarsità, sappiamo che bitcoin ha un tetto massimo di 21 milioni, ok? Non è inflazionabile bitcoin, non c'è una banca centrale che può andare ad inflazionare bitcoin. Quindi sappiamo che è un bene scarso e limitato, è raro. Ci sono al massimo 21 milioni di bitcoin. Per quanto riguarda l'oro fisico, è qualcosa di simile. Anche l'oro fisico è un bene scarso, raro e limitato. Non possiamo però sapere con esattezza quanto è il tetto massimo dell'oro fisico. Non abbiamo una certezza matematica per dire è stato estratto dal sottosuolo e quindi c'è in circolazione tot oro fisico e tot sarà la max supply dell'oro fisico, ok? Non abbiamo questa certezza. Potenzialmente potrebbe essere il cero fisico anche su altri pianeti o su asteroidi. O comunque anche sul sottosuolo, non sappiamo quanto ce n'è. Però di sicuro è qualcosa che possiamo dire che è limitato per natura. Le valute fiat sono invece illimitate di per sé. Non c'è un tetto massimo, quindi c'è un'abbondanza illimitata. Non è un problema il denaro. Il denaro è infinito se lo paragoniamo e teniamo conto in valuta fiat. Qui ci sono governi, banche centrali che con un click possono inflazionare questo denaro. Comunque non c'è un tetto massimo, ok? Al denaro che si può creare in questo modo. Quindi chiaramente per questa features la scarsità, l'oro fisico e bitcoin sono chiaramente strumenti troppo superiori alle valute fiat. Per quanto riguarda la divisibilità di questi strumenti, sicuramente le valute fiat sono divisibili fino a un certo punto. Infatti in alcune tabelle o forse in tutte ti verrà detto che è ok come strumento per divisibilità. Perché? Perché ci sono vari tagli di banconote, varie monete e quindi comunque riesci ad effettuare un pagamento. È divisibile comunque. Bitcoin pure è divisibile, quindi non devi per forza ragionare in bitcoin. Puoi mandare frazioni di bitcoin. Si chiamano magari satoshi, l'unità base si chiama satoshi. L'oro qua, se vogliamo dirla tutta, non è propriamente divisibile. O meglio, se hai magari una placchetta che è tipo un foglio di carta in oro, lo puoi anche con le cesoie o con le forbici tagliare per carità. Però capisci che non è proprio facilmente divisibile l'oro fisico. Non è facilmente divisibile. Per quanto riguarda invece la portabilità, la trasferibilità, beh, chiaramente bitcoin è facile da portare e da trasferire. Ti basta sapere il seed o la chiave privata e potenzialmente puoi passare un confine, puoi andare ovunque vuoi con miliardi di controvalori in bitcoin. Puoi anche averne magari 21 milioni, è impossibile, però potresti averli anche tutti e trasportarli. È semplice. Trasportare l'oro fisico invece, pensa a passare una dogana, passare un confine con l'oro fisico, sopra un certo ammontare capisci che non è proprio, non è semplice. Anzi, è veramente difficile. La portabilità e la trasferibilità invece delle valute fiat dipende da cosa stiamo parlando, se da contanti, monete o numeri su database centralizzati, cioè quello che vediamo nell'home banking o nelle nostre banche sul conto corrente. Diciamo che è comunque semplice da trasferire, molto più semplice dell'oro fisico. Sicuramente in banca non ci sono grandi problemi, dipende, però non ci sono, diciamo, se qualcuno non ci blocca o non ci mette un tetto massimo al bonifico, diciamo che non c'è problema, è facile trasferire la valuta fiat. Per quanto riguarda passare un confine con la valuta fiat, quindi con, pensiamo, anche gli euro, beh, non è semplicissimo, non è semplicissimo, ma anche passare da una città o un'altra con un certo quantitativo di denaro in contanti non è semplice. In molti, infatti, utilizzano, chi deve fare da corriere, chi deve trasportare denaro, utilizza la banconota da 500 euro e c'è tanto valore, tra virgolette, in un foglio di carta. Per quanto riguarda la resistenza alla censura, solo bitcoin, diciamo, è resistente alla censura perché è un sistema peer-to-peer, quindi non c'è un intermediario che può censurare e bloccare una transazione. Sull'oro, sopra certi quantitativi, è chiaro che diventa facile e possibile bloccare un trasferimento di oro. Per quanto riguarda le valute fiat, chiaramente sono, per carità, contanti fino a certe soglie, magari sono difficili da bloccare trasferimenti in contanti, sopra certe soglie diventa già più semplice, e tutti quei soldi che teniamo in conti correnti, chiaramente sono censurabili, chiaramente sono censurabili con un click, o meno di un click. Quale strumento, poi, è durevole tra l'oro, bitcoin e valuta fiat? Durevole nel senso sia fisico, ma anche nel senso che dura nel tempo. Allora, le valute fiat, anche proprio nel termine fisico, se consideriamo contanti, non è uno strumento durevole, perché tende a deperirsi, si possono disintegrare le banconote, più difficile già le monete. Però, chiaramente, le valute fiat, se consideriamo il fatto di essere durevole a 360 gradi, chiaramente vanno e vengono con i governi, ok? Hanno una data di scadenza, hanno una data di morte, tutte le valute fiat. Hanno una data di inizio, una data di fine. Per quanto riguarda l'oro fisico, in termini proprio dell'oro fisico tangibile, chiaramente è durevole, non ha problemi di istruzione, non è deperibile, e comunque resiste, cioè sempre, resiste dal corso, da quando esiste l'uomo c'è l'oro fisico, è il denaro degli dèi. Lo stesso vale per Bitcoin, è vero, non esiste da quando c'è l'umanità, o da quando c'è il nostro pianeta, però è qualcosa di durevole. In maniera fisica, perché non è tangibile Bitcoin, è intangibile, ma anche perché non è che va e viene con un governo, è qualcosa di durevole, è libero mercato. Per la features della verificabilità, invece, bisogna ammettere che solo Bitcoin è uno strumento che è del tutto verificabile, dove non c'è neanche rischio di contraffazione. Ad esempio, se parliamo del rischio di contraffazione, ci provano a contraffare l'oro, è vero, non possono replicarlo al 100%, però ci provano. C'è l'oro falso che gira, così come ci sono banconote false che girano, infatti ci sono macchinette del genere per vedere se una banconota è vera o no. Anche con le banconote probabilmente è difficile ricrearla, è possibile, ma è difficile ricrearla in maniera identica ad una banconota vera, ok? Però diciamo che ci si avvicinano molto, quindi c'è rischio di beccarsi una banconota contraffatta. Questo rischio non c'è sul Bitcoin, non può essere contraffatto Bitcoin. Bitcoin è quello e basta, quindi non c'è una contraffazione. A livello matematico, Bitcoin è l'unico strumento tra questi tre che è verificabile, quindi possiamo vedere quanto ce n'è in circolazione, qual è la max supply, eccetera. Non possiamo fare questo con l'oro fisico, purtroppo. Non abbiamo una certezza matematica che ci sono tot tonnellate di oro nel pianeta in circolazione e tot tonnellate di oro come max supply. Non lo possiamo sapere neanche per le valute fiat, per gli euro, i dollari o altre. Per quanto riguarda invece il track record, solo l'oro passa questo controllo, questo check, perché esiste da quando esiste il pianeta. Tutte le valute fiat invece tendono a morire. È vero, ci sono delle valute fiat più longeve di altre, come la sterlina inglese, però anche queste non è che hanno tutto questo track record, le valute fiat. Chiaramente qui, se dobbiamo assegnare dei punteggi, perde su questo aspetto, perde Bitcoin, ma perché? Perché ha poco storico, esiste da poco tempo, meno di alcune valute fiat e meno sicuramente dell'oro fisico. Ora, al di là di quello che ti è sempre stato insegnato dalla società o dalla scuola, qui difficile perché non si parla mai di denaro a scuola, però mettiamo da quello che ti è stato insegnato dall'università se hai fatto economia. Secondo te, ha realmente senso risparmiare in qualcosa che non ha un tetto massimo ma che è illimitato e che può essere inflazionato con un click a proprio piacimento? Non ha più senso, quello che mi chiedo io, risparmiare in qualcosa che invece ha un tetto massimo, che è scarso e raro? Di natura o perché è stato costruito così in maniera tecnica? Rispondi sinceramente, lasciamo perdere gli altri aspetti. Rispondi sinceramente solo a questa features della scarsità. Se rispondi sinceramente dirai, beh, effettivamente non ha senso risparmiare in valuta fiat, non ha senso risparmiare in euro. Però magari ti dirai, vabbè Filippo, però è anche vero che gli euro non hanno fluttuazioni di valore folli nel breve periodo. Qui dipende, dipende dove vivi, in quale stato vivi e dipende che valuta utilizzi. Ci sono già delle valute fiat che sono molto più volatili, anche nel breve, non nel lungo, ma nel breve, di oro fisico e bitcoin e di altre criptovalute, quindi dipende. Se parliamo invece degli euro è una giusta obiezione, non ho nulla da ridire, è una giusta obiezione. Nel breve periodo chiaramente l'euro, almeno per ora, è meno volatile del bitcoin o dell'oro. Il mio consiglio, infatti, è per chi parte da zero, è di fare un ibrido in questa storia del risparmio. Quindi magari partire da un 50 e 50. Quindi risparmi il 50% di quello che riesci a risparmiare in euro e il 50% in hard money. Paghi con la valuta cattiva, quindi con gli euro, e risparmi, tendi a risparmiare la valuta forte, l'hard money. Nel tempo, poi, quando ci prendi un po' la mano e quando le cose iniziano a migliorare nel corso del tempo, vai a scalare. Quindi fai un approccio che vai a ridurre la percentuale di risparmio in euro e aumenti quella in hard money. Perché? Perché il difficile in realtà è solo nel breve periodo fare questo cambio di metodo per risparmiare. Nel lungo periodo è molto semplice, cioè lo stesso sistema ti aiuta a risparmiare in hard money, però è difficile nel breve. Quindi, a mio avviso, se non siamo estremisti, si può fare un meccanismo ibrido di risparmio, un 50 e 50 e poi si va a scalare. Questo ti aiuta molto. Tieni conto che più passa il tempo, più diventa semplice risparmiare in questo modo. Quindi il difficile è solo l'inizio, il salto iniziale che devi fare, poi diventa semplicissimo. Io consiglio quindi di partire in maniera ibrida, poi ti assicuro che non è più un problema risparmiare in bitcoin o risparmiare in oro fisico. Ora, c'è chi dirà che risparmiare in oro fisico o risparmiare in bitcoin non è risparmio ma si chiama investimento. In realtà, se vogliamo ragionare così, non fatemi arrabbiare, questo non è investimento ma è speculazione. Quindi, se vogliamo proprio ragionare così, chiamiamo le cose con il loro vero nome. Quindi non diciamo sciocchezze, investire una cosa, speculare un'altra. Quindi se vogliamo ragionare in termini accademici, semmai è speculare in bitcoin o speculare in oro, non investire. Se però intendiamo bitcoin o intendiamo l'oro come nostra valuta ufficiale, personale, so che è difficile questo concetto, ma se lo intendiamo così, come una nostra valuta personale, allora quello per noi diventa un risparmio. Non è né investimento né speculazione. Alcuni diranno, eh Filippo, ma così non ci paghi in questo modo le tasse, non ci paghi il pane con l'oro e con bitcoin. In parte è vero, ma noi paghiamo in valuta cattiva, in valuta debole e risparmiamo in valuta forte. Il significato di risparmio, speculazione, lasciamo perdere un attimo i significati accademici, lasciamo perdere i libri, mettiamo da parte un attimo i libri di finanza. Questi concetti cambiano a seconda della prospettiva e del comportamento del soggetto che va a utilizzare quello strumento. Quindi non vi è una verità assoluta se bitcoin o se l'oro è speculazione, è investimento o risparmio. Non c'è una verità assoluta. Molti miei colleghi, lo so, qui mi criticheranno, però ragazzi non c'è una verità assoluta. Dipende dalla persona, da come quella persona intende e va a utilizzare quello strumento. Ad esempio, alcune persone trattano bitcoin come una forma di risparmio digitale, soprattutto in quei contesti dove la valuta locale è instabile o soggetta a forte inflazione. La natura deflazionistica di bitcoin, data la sua offerta limitata, può renderlo attraente per coloro che cercano di preservare il valore del proprio capitale nel tempo, nonostante la sua volatilità. Molti invece vedono bitcoin come un investimento di lungo periodo. Sperano che il suo valore aumenti nel tempo. Bitcoin è spesso considerato come oro digitale, quindi come un rifugio contro l'inflazione. Gli investitori possono includere bitcoin nel loro portafoglio di investimento. Molti lo fanno. Altri ancora vedono bitcoin come speculazione, di breve periodo. Pensiamo magari ai traders, a quelle persone che vogliono provare a guadagnare dalla volatilità di questo asset. Per loro quello è speculazione. Quindi non c'è una verità assoluta. Dipende da persona a persona. Il mio consiglio è quello di allargare un po' le vedute e di studiare. E valutare se è così tanto folle risparmiare in oro o risparmiare in bitcoin rispetto a risparmiare in euro. Secondo me è più folle risparmiare in euro se ci pensiamo bene. Tutto qua. Con questo è tutto. Fammi sapere se questo video ti è stato utile o se ti è piaciuto. Lascia un bel like, lasciami anche un commento, fammi sapere la tua. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!